Abbiamo trovato una brutta sorpresa, le cose per terra, i documenti in terra, i computer scomparsi, i telefonini scomparsi, dei giochi tipo tablet per i bambini andati e i fondi raccolti per un ragazzo disabile mutilato che occorrevano per una carrozzina a motore e sottratti. È stato brutto, è stato brutto vedere quello che è, oltre il danno anche le emozioni negative che abbiamo provato, di insicurezza. Sapere che siamo in grado di avere aiuto in tempo reale, sapere che il nostro rischio, anche personale, si abbassa tantissimo, è veramente una cosa che non posso neanche definire quanto è grande per noi. Avervi qui da noi in questi termini è starete sicuri, perché per noi la violazione di quello che è casa nostra è stato comunque un momento forte e sapere che possiamo in qualche modo essere sostenuti e non lasciati soli, anche quando dobbiamo affrontare delle difficoltà come momenti particolari che ci siamo trovati nel nostro percorso con persone, piuttosto che sapere che comunque casa è protetta, è qualcosa che fa star bene e ne abbiamo bisogno. E' veramente incredibilmente bello quello che Verisola sta facendo per noi. Grazie. 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 Grazie.